Salve a tutti, un saluto da Mr. Viral e da tutto lo staff di Viral Top Italia. Nella serata di ieri è andata in onda un importante live, assieme all'HMR, un gruppo di ricerca del paranormale. È stata molto interessante, è stata una serata all'insegna della cultura, ci siamo addentrati sempre più all'interno di ciò che è il paranormale. Una serata nella quale i nostri ospiti hanno risposto eccellentemente alle domande che poneva il sottoscritto e alle domande che ponevano i nostri amici collegati da casa. Abbiamo rilevato estrema professionalità e fluidità nei discorsi, ci hanno spiegato tante cose, ci hanno raccontato delle loro esperienze e dei vari strumenti che utilizzano quando sono in indagine. In più ci hanno raccontato cosa vuol dire fare una valutazione degli ambienti e dei luoghi dove si recano, in modo da riscoprirne le bellezze e far sì che ognuno di noi li possa visitare. Una volta autorizzati dal Ministero dei Beni Culturali, vi invito a guardare la live andata in onda ieri sera, è stata davvero interessante, come tutto il resto delle live che sono andate in onda sul nostro canale sino ad oggi. Sono rimasto profondamente colpito dalla preparazione che avevano i nostri ospiti, dalla gentilezza e dall'educazione mostrata nei miei confronti e nei confronti del nostro pubblico. Ci tengo pubblicamente a ringraziare ogni componente dell'HMR che ieri è intervenuto sul canale e noi. Sì, anche quelli non presenti perché sono molte persone. Grazie a tutti voi, anche a tutti voi, vi invito ad iscrivervi a Viral Top Italia e di portare a conoscenza Viral Top Italia a tutti i vostri conoscenti, scusate il gioco di parole. La live andata in onda ieri sera ci dimostra che la ricerca nell'ambito del paranormale è infinita e non appartiene a nessuno, ma appartiene a tutti noi, ad ogni singola persona, appassionata e non, affinché si cerchi di capire cosa si cela dietro quell'alone di mistero che circonda questo tipo di fenomeni. Vi ricordo di andare sempre sul canale e di andare a guardare i video che vi siete persi. Molti di voi hanno visto tutti i video, ci sono alcuni che alcuni video non li hanno visti. I nostri video sono tutti per la maggior parte interessanti e sono sempre fonti di ricerche approfondite. Vi esortiamo a guardarli tutti, a mettere like, a commentare, a condividerli con più persone possibili, a condividere il canale affinché possa arrivare a più persone. Molto successo ha avuto il video riguardante la tavola Uia, abbiamo parlato dell'uomo cane, della storia della tomba del conte Dracula, abbiamo parlato delle presunte attività paranormali catturate in video, dei misteri risolti, degli oggetti misteriosi venuti dallo spazio e tante altre cose. Nel nostro canale trovate qualsivoglia cosa, ogni cosa che voi volete, molto probabilmente la trovate già caricata lì, molte altre stanno per arrivare. Come stanno per arrivare tante altre novità. Ci tenevo inoltre a ricordarvi che sul canale dei Mib è uscito il terzo video riguardante l'indagine condotta a Villa dei Vecchi. Iscrivetevi anche al loro canale, mettete like e commentate quel video. Ci farebbe tanto piacere sapere cosa ne pensate. Grazie mille. Naturalmente la ricerca continua, sia da parte nostra ma specialmente da parte loro, da parte di persone come il Mib, da parte di persone come Epas, che affrontano questo genere di argomenti con la massima professionalità possibile, senza cercare di ingannare il prossimo per andare a proprio vantaggio. Da parte nostra vi esortiamo a seguirli e a seguirci, non ci abbandonate mai. Condividete questo video e fate sì che la maggior parte delle persone possano conoscere il nostro canale. Il nostro obiettivo principale è di portare a conoscenza del risultato delle nostre ricerche ad ognuno di voi, in modo che possiate sfruttarle a vostro vantaggio come bagaglio culturale. Sì avete sentito bene ho detto come bagaglio culturale, perché anche il paranormale è parte della cultura. E la maggior parte delle persone che oggigiorno parlano di paranormale sono persone ben acculturate. Sono ormai poche le persone che si improvvisano. E quei pochi che ci sono. Ci auguriamo che lo facciano nel migliore dei mondi. Bando alle ciance. Buona giornata a tutti voi. Andate a guardare la live di ieri sera. Link in descrizione. mettete mi piace, commentate e condividete. Vi ricordiamo come sempre che qualora vogliate sostenere attivamente il canale, nella parte dove c'è il pollice all'insù scorrendo verso destra dovrete un tasto a forma di dollaro. Cliccate lì. Vi ringraziamo. Non è obbligatorio. Ma qualora vogliate farlo, vi ringraziamo per sostenerci. Grazie mille. Grazie mille a tutti voi. Un saluto da parte di Mr. Viral e da tutto lo staff di Viral Top Italia. Grazie.